Nelle Filippine, da secoli, esiste una novena in preparazione al Santo Natale, chiamata Simbangabi, Messa della Notte. Durante nove giorni, i fedeli filippini si ritrovano all'alba nelle loro parrocchie per una speciale celebrazione eucaristica. Negli ultimi decenni, grazie ai migranti filippini, tale devozione ha superato i confini nazionali e l'ha prodata in tanti altri paesi. Da anni si celebra la Simbangabi anche nella Diocesi di Roma e oggi la celebriamo insieme qui, nella Basilica di San Pietro. E voi, cari fratelli e sorelle, che avete lasciato la vostra terra alla ricerca di un futuro migliore, avete una missione speciale. La vostra fede sia lievito nelle comunità parrocchiali alla quale pertenete oggi. Vi incoraggio a moltiplicare le opportunità d'incontro per condividere la vostra ricchezza culturale e spirituale, lasciandovi nello stesso tempo arricchire dalle esperienze altrui. E continuate ad essere contrabandisti della fede. Grazie.